Bentornati sul nostro canale, quest'oggi vi presentiamo degli involtini di tacchino al pesto. Sono degli involtini ovviamente di carne di tacchino impreziositi dal pesto alla genovese che danno veramente una marcia in più a questo secondo piatto di carne. Ovviamente il cuore sarà, come spesso capita, di prosciutto e con un formaggio tipo scamorso provolano e dolce. Un formaggio che vada ben in abbinamento con il gusto prorompente del pesto alla genovese. Come sempre gli ingredienti li trovate in descrizione, non mancate di iscrivervi al canale e lasciate un like a fine video. Due semplici operazioni che non vi costano nulla ma ci aiutano a crescere. Ma ora partiamo con la preparazione. Preparazione che parte chiaramente dalle fettine di tacchino. Nella fattispecie noi abbiamo preso le sottilissime che si trovano ormai in qualsiasi banco del supermercato. Questo ci permette di fare degli involtini un po' più piccoli e meno spessi e quindi i tempi di cottura sono un po' più minori. Gli involtini li passiamo nel pangrattato da entrambi i lati. Dopodiché andiamo a mettere con un cucchiaino una porzione di pesto alla genovese. Lo distribuiamo il più possibile lungo tutta la fetta del tacchino. Dopodiché prendiamo un po' di prosciutto, lo avvolgiamo all'interno del nostro formaggio e andiamo a disporlo all'interno del cuore della nostra fetta di tacchino. Arrotoliamo stretto e cerchiamo di richiudere ovviamente i bordi con uno stuzzicadenti il più possibile e richiudiamo il nostro involtino. Genericamente con due stuzzicadenti è più che sufficiente come chiusura. Facciamo questo ovviamente perché durante la cottura cerchiamo di far sì che meno formaggio fuoriesca dal nostro involtino ma rimanga all'interno ovviamente dell'involtino. Ed ora passiamo alla cottura. Prendiamo una pandella antiaderente, una diametro 28, filo d'olio d'oliva extravergine sul fondo e quando sarà ben caldo mettiamolo sulla fuoco, quello grande in maniera tale che il fuoco si propaghi per tutta la padella. Fate attenzione che se utilizzate il tripla corona potrebbe essere troppo caldo e bruciarvi gli involtini, mi raccomando, fate attenzione. Fiamma media, quando l'olio sarà ben caldo mettiamo gli involtini a cuocere. Tempi di cottura, questi sono molto influenzati chiaramente dallo spessore dei nostri involtini. Per quelli che vedete nel video 10 minuti per lato sono più che sufficienti ma ovviamente date sempre una controllata. Se vi volete regolare ad occhio e non a tempo, guardate quando la cottura risale dall'involtino. Vedete che praticamente l'involtino cambia colore. A quel punto andiamo a girare l'involtino. Giriamo l'involtino e lo cuociamo dall'altra parte. Fate attenzione ovviamente come vi ho detto prima, che se la fiamma è troppo vivace vi tenderà a bruciacchiare l'involtino. Quindi fate molta attenzione. Ripeto, con gli involtini di questa grandezza 10 minuti per lato sono più che sufficienti. Secondo metodo, quando li girate per valutare la cottura. Sacrificatene uno, tagliate a metà e valutate la cottura al suo interno. Per quanto riguarda il sale, il sale lo andremo a mettere quando giriamo gli involtini. Fate attenzione perché utilizzando un formaggio già saporito al pesto ha già una sapidità molto marcata di sua questa ricetta. Quindi io sinceramente lo sconsiglio, ma io mangio un pochino in sipido. Se invece è gradito un pochino di sale in più, quando girate gli involtini andate a metterlo. La ricetta finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta, se l'avete gradita. Non mi resta altro che augurarvi buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao da Max e Cocco. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.